La crisi discografica, le classifiche. Ronaldinho che va al Milan, come se mi interessasse. La casa che si allaga. Tutto questo accade intorno a me e io resto immobile a guardare. A volte resto freddo come un ghiacciolo, non sento niente. Ho solo voglia di gestire il mio spazio, controllarlo, sentirmi il padrone di quello spazio, come spostare sopra un mobile in un tavolo, vederli in ordine. Cerco qualcosa che mi emozioni per riempire questo tempo, riempirlo di parole, scrivere. Voglio perdermi nel mondo, perdere ogni sistema di autodifesa. Sapere di poter perdere tutto mi fa sentire vivo, pieno di energia. A volte penso che sia il momento di scappare. Devo vivere mille vite, continuo a ripetermi. Una non basta e non basterà mai. Ognuno di noi vede attraverso le vite degli altri e alla fine vede la propria, che appare così bella, così irripetibile. Per me la vita è un pomeriggio d'inverno, a guardare un film con i tuoi amici e alla fine del film ti bruciano gli occhi e corri a casa per la cena. Io sto guardando la vita di un altro e un altro sta guardando la mia.